dalla tradizione e dall'esperienza di agostini la grande enciclopedia una completa banca dati aggiornata e moderna in edicola la grande enciclopedia di agostini con i primi due fascicoli il primo numero del grande atlante d'italia una proposta di agostini vinci la notte più folle della tua vita a parigi e porti cinque amici vinci come me la notte folle a parigi con cinque amici negli ultimi due anni ho cambiato casa ho cambiato il servizio di piatto ho cambiato la sveglia e anche tutta la cucina ma non ho cambiato la mia pippo forte robusta imbattibile tutto passa pippo resta a proposito ho cambiato anche marito questo film è un test all'ora di pranzo siete così cambiate canale siete brave cuoche 20 punti e proseguite mentre cucinate esagerate cambiate canale se curate tutto con amore 50 punti e proseguite ora non vi curate affatto di quel che si beve peccato se invece portate in tavola un buon vino complimenti avete fatto il massimo hai fatto tutto non scordare il vino il vino un sapore così grande philips ha avuto una grande idea softon la lampadina che non ti stanca la vista evita le cravate non intonate ai calzini può stare più volentieri gli amici a casa tua ti fa perfino vedere tua moglie più bella e poi ti fa dimenticare la vecchia lampadina philips softon by philips la lampadina intelligente che bucato con nuovo al più pulito e in più morbido ma lui se ne accorgerà ciao già qui mi merito la madre rosa tieni così morbido e fresco ma come hai fatto con al più sì lo vedo che è pulito ma come mai è così morbido e fresco nuovo al più contiene ammorbidente pratico no due prodotti in uno ma sarà caro no al più è sempre conveniente nuovo al più con ammorbidente pulito morbido fresco l'italia enciclopedia e guida turistica un grande mosaico di geografia arte storia e civiltà per conoscere la tua italia in edicola l'italia con i primi due fascicoli il primo numero del grande atlante d'italia una proposta di agostini originale l'italia Grazie a tutti.